I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia carabinieri di Agropoli e della stazione carabinieri di Matinella, nell'ambito di una mirata attività di contrasto, hanno denunciato due soggetti per la coltivazione di sostanze stupefacenti. Gli stessi curavano un appezzamento di terreno di loro proprietà su cui insisteva una coltivazione di canna bisindica. Nell'ambito dell'attività sono stati sequestrati 9 chili di sostanza stupefacente, unitamente a materiale vario per la coltivazione e il peso della droga.